ecco qua la grande felicità cari amici ma io cosa vi posso dire è questa la pubblicità che va di moda di che cosa si tratta io mica le capisco queste cose voi le capite se voi le capite fatemelo sapere cari amici questa è la grande pubblicità io altro non so cari altro non so non so cosa facciano non so fatemelo sapere voi perché io sono uno scrittore sono chiuso nel mondo dei libri va bene cari amici a tutti tanti cari saluti dalle opere di serafino massoni